Allora, tutto bene? Ciao bellezza, scusate, ho fatto tassi su un lavoro. Quale dei tanti che mi lavoro ogni mese? Lasciala stare, guarda che non è facile lavorare e studiare. E infatti Chiara, stai zitta, che il tuo papi è l'avvocato, tu sei la sua segretaria, quando avrai preso la laurea in legge diventerai l'avvocato nello studio di famiglia, bello essere raccomandati, no? Ehi, va che io mi impegno tanto, e se proprio volete saperlo, mio padre mi paga pochissimo, ho i soldi solo per uscire una volta alla settimana. Piuttosto tu, e quella borsa da dove arriva? E che c'entra questa? Questo è un regalo di mia madre. Io i soldi che ho li voglio usare per bere un cocktail. Anzi, questo vuol dire che se dobbiamo fare un secondo giro, offrite voi. Certo, e con quali soldi? Aspetta, con la mancia che mi hanno dato durante l'ultimo turno al ristorante. Vediamo. Due euro. Ottimo. Mi sa che ci conviene rimorchiare qualcuno, farci pagare il conto e poi scappare. Sì, bell'idea. E Marti, era solo una battuta. Beh, in realtà non ci sarebbe niente di male. Va bene, dai, scherzavamo. Sì, come stai tra l'altro tu? Come va con il lavoro? Avevi detto che avevi trovato un posto come commessa in un negozio dei trucchi, giusto? Sì, e per fortuna l'ho lasciato. Ora ho un lavoro che mi piace molto di più e che mi rende benissimo. Ah, figata! Potevi dircelo subito, allora dobbiamo brindare. È vero! Di che lavoro si tratta? È un lavoro che si può fare ovunque. Basta avere un pc o un cellulare. E tanta fantasia. Interessante. Hai fatto bene. Altro che portare le pizze ai tavoli. Beh, Eli, se vuoi ti posso introdurre. Guadagni in base a quante ore al giorno lavori e io per ora devo dire che di certo non mi posso lamentare. Ah, ho capito. Ho capito. No, lascia stare. Non esci più. È una di quelle cose, tipo una società con le strutture piramidali, cose di vendita, che guadagni in base a quanti sottoposti hai. Sei fuori strada, Paola. Io lavoro da sola. Non ho bisogno di nessuno e soprattutto non devo rendere conto a qualcuno. Beh, come lo dici, sembra che è svoltato. Non dirmi che hai aperto partita IVA. Sarebbe una follia di questi tempi. Tranquilla, Chiara. Ho tutto sotto controllo. A questo punto siamo molto curiosi. Se è una figata pazzesca, come dici tu, ci devi assolutamente dire di più. Anzi, se vale la pena, mi faccio assumere pure io, visto che per ora sono sottopagata e sfruttata. Senza offesa, Paola, ma non credo che faccia il caso tuo. In che senso, scusa? Ma niente, è che conoscendoti sei un po' troppo timida. Posso portare qualcosa da bere? Una bottiglia di champagne. Ghiacciato, grazie. Va bene. Arriva subito. Tranquilla, offro io. Va bene, ho resi con una spiegazione. E va bene, ve lo dico. Anzi, facciamo prima. Ve lo mostro. Non capisco. Io invece capisco benissimo. Martina, spero tu stia scherzando. Non scherzo affatto, è il mio lavoro adesso. Ma fammi capire, metti foto dei piedi su internet? In realtà non ci sono solo piedi. Ma se la gente ti riconoscesse, non hai paura? Qualche malintenzionato? E da cosa dovrebbero riconoscermi, scusa? Dallo smalto? Assù. Marti, ascolta, non voglio giudicarti, ma... Ecco, allora non farlo. Ascoltami un attimo. Sei una donna colta, intelligente. E frequenti l'università. Presto diventerai una biologa. L'ho lasciata all'università. Cosa? Cosa? Ma è una follia. Eri portata per quello che facevi. Avevi degli ottimi voti. E poi, se non sbaglio, ti piaceva anche molto, no? Che mi piacesse è irrilevante, purtroppo. Ho guardato in faccia la realtà. Ma voi lo sapete quanti sono i laureati in biologia disoccupati? Undici mila. Ragazze, ma li leggete i giornali? E non solo in biologia sei per questo. Ma infatti che c'entra? Anche nella mia università succede, ma questo non significa che uno non debba studiare ciò che ama per proseguire la propria passione. Non sai quante ragazze della tua facoltà fanno quello che faccio io. Ti stupiresti nel sapere chi, anche perché alcune le conosci. Ragazze, ma voi proprio non volete capire. Quello che faccio io è il lavoro del secolo. È la cosa migliore da fare di questi tempi. Ma si guadagna facendo praticamente niente. Ma cosa c'è di meglio? Non so, forse tornare con i piedi per terra, magari. Non potrai farlo a lungo. E se per caso vorrai costruirti una famiglia, cosa farai? Mi stai facendo la morale? Ma quindi fammi capire. La gente ti paga e tu gli dai cosa? Foto strane, video spinti? Non è importante questo. Si tratta solo di business. Minimo sforzo, massimo guadagno. E soprattutto, zero spese. E poi ragazze, i clienti non mi vedono mai in faccia. Tanto non è quello che gli interessa. Ragazze, ecco lo champagne. Grazie. Grazie. Prego. Lascio qui. Lusso. È questa la vita che mi piace. Ragazze, io non voglio diventare come voi. Sempre stanche, sempre insoddisfatte. Andate avanti sprecando gli anni migliori della vostra giovinezza. Io, per me, ho altri progetti. Non lo so, Martina. Secondo me dovresti smetterla qui. Io lo dico per il tuo bene. Sono d'accordo. Divertirsi va bene, ma qui si parla del tuo futuro. Ma tanto non lo farò ancora per molto tempo, cosa credete? Ne ho agganciato uno bello grosso questa volta. In che senso? Sto parlando di un uomo. Uno con molti soldi. Perdonami, non avevi detto che era un lavoro online. Non penso che incontrare un uomo dal vivo sia incluso nel pacchetto. È vero. Ma con lui è diverso. Lui mi scrive messaggi e mi fa regali ogni giorno. E io, ragazze, adoro essere viziata così. Fammi capire, tu parli con questa persona senza sapere chi è? Beh, so che è un professionista di successo ed è il mio miglior cliente. Ha acquistato l'abbonamento premium, non so se mi spiego. Ti sei spiegata benissimo, guarda. È stato lui a insistere per conoscermi. E credo che se giocherò bene le mie carte, presto diventerò una signora molto ricca. Ma non pensi a quello che direbbero i tuoi se sapessero una cosa del genere? Ma chi se ne frega dei miei? Anzi, finalmente potrò fare quello che mi pare. E poi ci sarà lui a pensare a me. Sono stufa di subire ricatti a vita di mio padre. E poi, ragazze, è quello giusto, io me lo sento. Quello giusto? Ma Martina ragiona. Tu hai idea di che tipo di persone si possono conoscere attraverso una roba del genere? Ma davvero mi state facendo la predica? Ma che palle, ragazze! Siete solo invidiose. La mia vita sta finalmente per cambiare. Io ho tutto quello che voglio, invece voi no. Ed è questo che vi brucia. Anzi, sapete cosa vi dico? Spero anche che sia un figo pazzesco. Così sarete ancora più invidiose quando lo vedrete. In che senso quando lo vedremo? Gli ho dato appuntamento qui, al locale. Dovrebbe raggiungermi a breve. Non ci credo, tu sei pazza. E se non ti ha mai visto in faccia, come ti riconoscerà? Lo riconoscerò io. So come verrà vestito e so che mi porterà una rosa rossa. Eccolo! Il tuo principe azzurro è arrivato. Scusate. Ma quello è mio padre? Oddio! No! Adesso ho capito cosa fai di solito, eh? Quando stai al computer e dici che lavori tutto il giorno. Ma no, Chiara, lasciami spiegare. Abbi pazienza. Mi fai schifo! Adesso ho capito che genere di uomini si possono conoscere in questa maniera. Mi avete delusa. Entrambi. Due persone che dicono di lavorare. Una che dice di costruirsi un futuro. E l'altra che dice che dovrei costruirmene uno come ha fatto lui. Che pensa la sua famiglia. E che mi dà, o meglio, dovrebbe darmi il buon esempio. E che mi spiega che tipo di donna dovrei essere. Sapete una cosa? Spero di non diventare mai come voi. Chiara, ma come potevo sapere che fosse tuo padre? Ma hai capito che lavoro fai? Non sai nemmeno con chi ti interfacci. Io mi auguro di costruirmi un futuro migliore del tuo. Come spero di cuore che tutto questo possa averti insegnato qualcosa. E che ti possa rendere conto di poter aspirare a qualcosa di miglio di quello che fai adesso. Io me ne vado. Non starò qui a vedere come va a finire. Abbiamo realizzato dei video corsi con il supporto di psicologi ed esperti in neuroscienze. Se volete scoprire di più andate sul sito emotionalcoaching.com E ovviamente se avete una storia da raccontare condividetela con noi per ispirarci per i prossimi video. Ho visto che siamo qui? Potremmo anche approfittare. Questo è per te? Grazie. Possiamo andare allora? Sì, mi dici il tuo nome vero? Sì. Sì, mi dici il tuo nome vero?